Le aliquote IMU riaprodano in commissione bilancio, convocata per giovedì prossimo 25 ottobre alle 15.30. In realtà la commissione si riunirà in sede consultiva, cioè sul tavolo. Non verrà portata alcuna proposta né sull'IMU né sugli equilibri di bilancio. Se ne discuterà direttamente lì e la maggioranza cercherà di trovare un'intesa con l'opposizione. In gioco c'è il futuro dei lavoratori delle cooperative. Ieri sciopero e di nuovo lo saranno a novembre contro proprio la politica locale autore, dicono i sindacati, di un rimpallo di responsabilità tipo il gioco dell'oca. Il sindaco Federico auspica una soluzione condivisa tra maggioranza e minoranza, ma se il buongiorno si vede dal mattino, questo nella commissione di giovedì non accadrà, in quanto alcuni consiglieri di minoranza non intendono partecipare, altri invece sì, ma con spirito critico. Non condividiamo il fatto di andare in commissione senza una proposta solo perché non ci sono più i tempi tecnici per convocare il Consiglio entro fine mese, afferma Luigi Santilli della lista civica insieme per Lombardo. L'opposizione a Rialzati Abruzzo intanto fanno sul serio e predispongono la mozione di sfiducia al sindaco Fabio Federico.